Il clima sta cambiando e in modo sempre più estremo. Lavoro come meteorologo da oltre 20 anni e penso che la mia attività possa essere utile anche per dimostrare alle persone che i cambiamenti climatici sono reali e stanno influenzando la nostra vita e quella del pianeta. Con E.ON portiamo avanti da diversi anni Odiamo gli Sprechi, un progetto didattico che ha coinvolto più di 20.000 studenti sulle tematiche ambientali e climatiche. Un'iniziativa nella quale credo tantissimo perché la vera sfida è creare consapevolezza nei ragazzi di oggi così da avere domani dei cittadini disposti a impegnarsi per l'ambiente. E la soddisfazione è incredibile. Vedere anche i più piccoli così partecipi e sensibili all'argomento rende quello che stiamo facendo con loro davvero importante. Il mio obiettivo adesso è coinvolgere ancora più scuole per rendere sempre più persone consapevoli degli effetti del cambiamento climatico e dell'impatto che ognuno di noi ha sul pianeta. Perché per costruire un futuro migliore abbiamo bisogno che tutti facciano la propria parte. Il meteo e il clima sono la mia passione e studiandoli ogni giorno posso confermare che gli eventi meteo estremi stanno aumentando notevolmente, dalle ondate di caldo eccezionali ai violenti nubi fragili, passando per periodi di siccità prolungati e ghiacciai in veloce ritirata. Il cambiamento che è in atto è drastico e pericoloso e questo mi spinge ancora di più a dare il mio contributo per cambiare le cose. La natura mi piace molto, passeggiare nel verde, fare gite in montagna e al mare con la mia famiglia, soprattutto nei posti meno affollati così da immergermi appieno nei profumi e nei suoni che mi circondano. Ciao, sono Andrea Giuliaci and I'm taking action for climate. Grazie a tutti.